Buongiorno per la mini rassegna flash su Notizia Non Click, per oggi giovedì 15 dicembre iniziamo con una notizia di attualità, boccia, legge di bilancio contro giovani, poveri, pensionati e lavoratori. Manovra CIA, sua Cise, il tabacco, attenzione a filiera agricola, maltempo, col diretti, più aggia sconfigge, seccità, ma SOS ai numeraggi. Conte la manovra, il governo arrogante e senza coraggio. Governo e CCA, siamo in Albania, alleanza per dare forza al lavoro. E ancora estero la mazzetta dello sceico. Gentiloni la manovra, opinione positiva con rilievi critici. Questo e molto altro, potete trovare su Notizia Non Click.com, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima rassegna flash. Buona giornata, Loredana.